Stefano Bettarini, dedica social per il compleanno di Nicoletta Larini l'ex marito di Simona Ventura e sempre più innamorato della sua giovanissima fidanzata, a quello che eravamo, a quello che ora siamo, a come noi saremo, auguri. Amore mio, è una dedica che guarda al futuro e lascia presagire piani di vita insieme quella che Stefano Bettarini ha fatto sui social a Nicoletta Larini, che ha spento 24 candeline accanto al suo uomo. Una cena romantica per la coppia che recentemente si era trovata a festeggiare il compleanno di lui, altrettanto documentato su Instagram. Bettarini Larini, storia di un amore Stefano e Nicoletta si sono innamorati nell'estate del 2017. 22 anni di differenza tra la fashion designer e l'ex calciatore, ma è l'amore a tenerli uniti. Negli scorsi mesi avevano rilasciato dichiarazioni piene di entusiasmo circa la loro storia, lui si era detto pronto a diventare nuovamente papà dal momento che, Nicoletta ha la donna giusta, e tra lei e i figli avuti dalla ex moglie Simona Ventura il feeling è più che buono. Lei invece per Bettarini aveva mandato all'aria una storia di 4 anni. Un periodo felice per Stefano, che non solo ha trovato una compagna ma ha anche posto fine ai dissapori con la ex moglie sotterrando l'ascia da guerra e instaurando nuovamente un rapporto di risa con l'avventura. Un periodo felice per Stefano, che non solo ha trovato una compagna ma ha anche posto fine ai dissapori con l'avventura.